Un tributo a chi ha imparato a insegnare senza mai smettere di imparare. Un tributo a chi sa che certe vittorie contano più di altre. Un tributo a chi nel suo mestiere ci mette la faccia, ma soprattutto la testa. Un tributo a chi sostiene l'impegno sociale ed educativo del servizio pubblico con il canone. Il canone TV è un tributo come tutti gli altri. Pagarlo non è solo un gesto di civiltà, è un obbligo. Autore dei sottotitoli e revisione a cura di QTSS